Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete anche seguirmi su Instagram, ma soprattutto vi ricordo che è uscito il mio shop. Trovate tutte le informazioni qui sotto nell'info box. Detto questo, diamoci dentro col video. Questo caso me l'avete richiesto in tanti. Mi avete richiesto questo caso sul Google Docs, ma mi avete anche fatto molte richieste tramite commento sotto i miei video. E oggi quindi sono qua per raccontarvi la storia di Jessica Faoro. La storia di Jessica Faoro è una storia molto triste per quanto mi riguarda. Ha a che fare con la storia dei suoi genitori e con un progetto di assistenza familiare, ahimè, fallito miseramente. Ma andiamo con ordine. Jessica nasce nel 1998 e fin da subito vive in una comunità per un provvedimento dell'autorità giudiziaria. I suoi genitori Stefano Faoro e Anna Maria Natella, che ha solo 19 anni quando mette al mondo Jessica, hanno storie complicate alle spalle ma soprattutto non hanno una casa, ahimè. Quando Jessica ha due anni torna in famiglia perché Stefano Faoro, suo padre, ha comprato una piccola casa di cui paga tuttora il mutuo. C'è però un problema. Anna Maria e Stefano, i genitori di Jessica, litigano davvero in continuazione. Spesso arrivano alle mani e il padre, alla fine, deve patteggiare una condanna per maltrattamenti contro la moglie. Nel frattempo la coppia ha messo al mondo un altro figlio, Andrea, di 18 mesi più piccolo di Jessica. Entrambi vengono messi in comunità, provano a mettere anche la madre di Jessica in comunità, per farla stare vicino ai figli, ma questa soluzione non si rivela ottimale. I servizi sociali garantiscono che Jessica e Andrea non si sarebbero mai separati. Loro non l'avrebbero permesso e invece vengono separati. I due fratelli stanno insieme per poco, poi Jessica nel 2008 viene affidata al comune di Milano dal tribunale dei minori, a 10 anni. La madre ormai ha perso la responsabilità genitoriale, mentre quella del padre è limitata. Jessica a questo punto viene affidata ad una famiglia, ma non funziona. La ragazzina vuole scappare, dunque viene affidata ad un'altra famiglia, ma anche questo affidamento fallisce. Jessica dunque finisce in una casa famiglia a Boghiera, gestita da suore. E qui conosce delle ragazze che condividono questo difficilissimo percorso con lei. La prima ragazza con cui Jessica stringe amicizia si chiama Celeste. Stanno insieme nella stessa casa famiglia per 4 anni e Celeste descrive quegli anni come terrificanti. Li definisce un incubo. Le ragazze vengono maltrattate, umiliate e picchiate dalle suore. Jessica è profondamente infelice in quegli anni. Piange tutti i giorni e Celeste lo sa bene, perché condividono la camera. In più, in questa casa famiglia è presente anche del bullismo perpetrato dalle ragazze più grandi. Jessica vuole bene i suoi genitori, è vero, non li ha mai conosciuti, ma prova un sincero affetto per sua madre. Anna Maria, nonostante le sue difficoltà, non si disinteressa mai di Jessica. Va spesso a trovarla in comunità. Ma Jessica, alla fine, la vede come una sconosciuta. Dobbiamo a questo punto sottolineare una cosa. Jessica non sa cosa voglia dire vivere in una casa sua con i suoi genitori. Non sa cosa voglia dire avere una cameretta tutta per lei. Non sa cosa voglia dire alzarsi dal letto tutte le mattine e andare in cucina e trovare la sua mamma che le prepara la colazione. Tutte queste cose che per molti di noi sono e sono state ovvie e normali, per Jessica non lo erano affatto. Manca l'amore nella sua vita, quello che solo una famiglia stabile ti può dare. Jessica ovviamente quel tempo dimostra il suo malessere, ha parecchie crisi di pianto, ma con gli anni che passano, quel pianto, quella tristezza, si trasforma in rabbia. Rabbia verso chiunque, anche verso se stessa. Ha delle crisi autolesionistiche e arriva a tagliarsi la faccia con una lametta. A questo punto Jessica viene nuovamente affidata a due famiglie diverse. Ma scappa sempre e a seguito di questi ennesimi affidamenti falliti, viene mandata presso l'associazione Fraternità e lì rimane fino al 2013. Anche lì le cose non vanno affatto bene. Qualcuno in quella comunità dice Aveva come un buco dentro, pur essendo solare, buona e generosa, Jessica. Quel buco niente e nessuno riusciva a riempirlo. Aveva le ali ai piedi, Jessica. E chi poteva fermarla? A 15 anni Jessica inizia anche a scappare dalla comunità. A 16 anni è incinta, quindi viene portata in una comunità di asti, per madri minorenni, dove decide di non abortire. Partorisce quindi una bambina, che dà in adozione. Intanto conclude le scuole medie, fa un corso di aiuto a cuoco che non conclude. Poco dopo si ritrova nuovamente incinta, ma abortisce immediatamente alla Mangiagalli. A 18 anni Jessica se ne va dalla comunità e sparisce dai radar. Torna da sua mamma, sta un po' con lei, ma anche in questo caso esce spesso e sparisce per giorni. Fino a quando non dice a sua madre che vorrebbe provare a stare con suo padre. Questo dunque è quello che sa Anna Maria. Sua figlia Jessica è con suo padre. Invece Jessica non è da suo padre. In realtà ci va da suo padre, ma ci sta per pochissimo tempo. Va da qualche amica per dormire, si sposta spesso per non dar disturbo. E fortunatamente di amiche che la possono ospitare ne ha. Ma ci sono anche Notti che passa per strada. Il suo unico mezzo è una bicicletta e con quella si sposta per Milano. Ogni tanto torna anche dai servizi sociali, ma racconta poco o niente. Ad esempio dice che una volta era con il suo fidanzato in una casa occupata, ma erano stati beccati e cacciati. Così, dopo questa vita fatta di comunità, Jessica si ritrova nel mondo dei grandi, o meglio, nel mondo reale. Quel mondo che non conosce e con cui non è mai realmente entrata in contatto e col quale ora deve fare i conti. Inizialmente Jessica accetta per un mese ospitalità in un centro di accoglienza temporanea per adulti, in quanto è di nuovo incinta. Partorisce un altro bambino e lo dà in adozione. In questo momento Jessica vive già praticamente per strada. È fidanzata e innamorata di un ragazzo di nome Alessandro, un suo coetaneo che però, all'età di 18 anni, finisce dietro le sbarre per una serie di piccoli furti. Jessica impazzisce letteralmente e cerca in tutti i modi di vedere Alessandro. Alessandro, quel ragazzo che Jessica chiama Il Nino, le ha messo le mani addosso più volte. In un'occasione l'ospedale di Reggio Emilia chiama il comune di Milano, dicendo che Jessica è stata colpita e ferita da Alessandro. Quindi la ricoverano per qualche giorno sperando che il ragazzo se ne vada. Il problema è che Alessandro non se ne va mai. Chiariamo, quel ragazzo Alessandro ha già picchiato Jessica altre volte. I due litigano, Alessandro le alza le mani, le fa del male, ma poi fanno pace e a pace fatta i due cercano insieme un posto per dormire, in stazione centrale, a Milano. Intanto Jessica continua a spostarsi con la sua bicicletta per Milano e riesce a trovare dei lavoretti saltuari. Per un periodo lavora da footlooker? Oppure lavora fuori dai locali distribuendo volantini? Allora, mi dispiace risultare dura e se qualcuno non è d'accordo con me è libero tranquillamente di scrivermelo qui sotto nei commenti. Ma credo davvero che in questo caso i primi responsabili siano stati gli assistenti sociali, che avevano la tutela di Jessica da quando era ancora in fasce. Jessica nella sua breve vita effettua tre interruzioni di gravidanza, mentre due le porta a termine. Spesso e volentieri minaccia il suicidio. Prima della maggior età spesso fugge dalla comunità. Ma a quanto capito questa è una situazione che può accadere molto spesso. Quando fugge dalla comunità si ritrova obbligata ad occupare case con persone spesso sconosciute. Queste sono persone disperate, senza un tetto sulla testa, che vorrebbero poter dormire in una condizione semidecente durante la notte. È evidente, a mio avviso, che gli assistenti sociali non si siano occupati di Jessica nel modo giusto. Ed è così che Jessica entra in un tunnel di orrori che anche una donna adulta farebbe fatica a sostenere. Cristina Di Michele, protagonista della cooperativa sociale Comunità Progetto, da vent'anni attiva a Milano, docente a contatto di scienze pedagogiche alla Bicocca, dove insegna progettazione e valutazione dei servizi e degli interventi educativi, dice È evidente che i 15 anni di lavoro e dei servizi non hanno portato un risultato che permettesse a Jessica di vivere. I giovani in condizioni di fragilità, di estrema precarietà, sono davvero tanti. Se non hanno la famiglia ad appoggiarli, sono completamente allo sbando. Jessica però, come già vi ho detto, ha un padre e una madre, però non ha cercato da loro aiuto. Il padre, Stefano Faoro, dice Quasi non la conoscevo. Quando era piccola, potevo vederla una volta ogni due mesi, un'ora, in una stanza di 4 metri per 4. Ogni tanto l'andavo a trovare nelle comunità, ma poi ho smesso. Negli ultimi tempi comunicavamo attraverso lo chat di Facebook. Per un po' era tornata qui, ma io non ce la facevo. Sono proprio un incapace. Non sono stato aiutato. Ho chiesto aiuto per imparare a fare il padre. Non è arrivato. Questa frase mi ha colpito molto. Ho chiesto aiuto per fare il padre, ma non sono stato aiutato. Non so che cosa intendesse esattamente Stefano con queste parole, ma in me non c'è nessuno che ti insegna a fare il padre. Non ci sono corsi. Non c'è niente di tutto ciò. Forse lui si stava riferendo a qualche appoggio che poteva dargli qualche comunità. Io non lo so, perché non sono così esperta in questo campo. Però questa frase mi ha lasciata alquanto perplessa. In che senso nessuno l'ha aiutato ad imparare a fare il padre? Ripeto, non esiste un corso per diventare padri. La verità è che ti nasce un bambino, diventi padre e inizia a fare il padre. Punto. Commettendo degli errori? Sicuramente. Nessuno nasce imparato. Nessuno nasce già con la consapevolezza di sé. Nessuno nasce pronto a dover affrontare una situazione del genere che obiettivamente è fantastica, è bellissima, ma ti stravolge la vita. Si impara a strada facendo. In ogni caso, a differenza del padre, la mamma, Anna Maria, dice che lei e la figlia erano tutto sommato abbastanza vicine. Ciò che è certo è che Jessica, pur nel bisogno, non è andata da lei. Anzi, se ne è andata da casa sua. L'assessore Maiorino ammette con onestà. Certo, qui c'è un fallimento, ma non sta tanto nel fatto che questa ragazza ha bussato alla nostra porta e non l'abbiamo aperto, piuttosto che non ci percepiva come utili. Se una ragazza cresce in comunità, poi esce e finisce in questa tragedia, c'è una debolezza nel suo percorso educativo. È un motivo di dolore e di riflessione per tutti noi. Maiorino sottolinea che non è vero che quando Jessica ha compiuto 18 anni i servizi sociali se ne sono disinteressati. Infatti, aggiunge, abbiamo forme di sostegno. Lei le ha rifiutate. Poi un mese fa si è fatta viva con i servizi sociali, chiedendo aiuto. Le hanno dato un appuntamento con l'assistente sociale per il giorno successivo, ma non si è presentata. Come dimostra la vicenda del fratello Andrea, che ha 19 anni ed è ancora in carico ai servizi, nonostante la maggior età, eravamo ben lontani dall'abbandonarla. Però non siamo proprio riusciti ad agganciarla. E questo è il problema. Inoltre, Cristina Di Michele aggiunge Quelli come Jessica sono ragazzi e ragazze invisibili. I servizi non li intercettano. Vivono in posti occupati, sovraffollati, degradanti. A Milano c'è un pezzo di periferia, è infilata nel centro, è la zona di Stradera, Meda, Brioschi, a limitare dei navigli. I ragazzi e le ragazze come Jessica Faoro vivono lì, fra illegalità e legalità. La fascia d'età rischio è tra i 18 e i 30 anni. Sono persone che non fanno parte della società, della sfera pubblica. Non sono cittadini. Sono abbandonate alla loro disperazione personale, alla loro povertà. Si muovono fra lavori miserabili e precari. Un mese non hanno reddito, quello dopo prendono 250 euro. Perdono la speranza. Mi dicono Non ce la farò mai. Sarà così per sempre. A 20 anni sono stanchi, rassegnati, senza competenze, senza desideri. Non sono nemmeno in grado di formulare una domanda ai servizi. Una ragazzina in quella situazione è carne da macello. Le può succedere qualunque cosa. Potrei dire che a Milano ce ne sono almeno mille come Jessica. È una stima realistica. Non è una categoria sociale, è una condizione esistenziale dove la sostanza poco legale dilaga. Il punto qui è un altro. Jessica non faceva uso di nessuna sostanza. O almeno queste sono state delle voci che sono partite proprio dai giornali. Il Corriere della Sera per primo ha insinuato che Jessica fosse una passeggiatrice e una ragazza dipendente dalle sostanze. Cosa non vera. È evidente che il Corriere della Sera non è molto interessato a fare fat checking e questa cosa fa il quanto schifo. Voglio dire, una ragazza è morta da 24 ore e ma sì, inventiamoceli delle cose di sana pianta su di lei, no? Inventiamo che faceva uso di sostanze. Ci sono state retossicologiche? Ma assolutamente no. Ma noi lo possiamo comunque presumere. Diciamolo che faceva la passeggiatrice. Ci sono delle prove? No, ma possiamo dirlo comunque. Bravi! Che grande rispetto che avete per una ragazza che è venuta a mancare. Complimenti! A me queste cose davvero mi lasciano orripilata. L'unica cosa che mi viene in mente c'è questa frase che si ripete nella mia mente ossia come ti permetti? Come ti permetti? Ora ragazzi andiamo avanti altrimenti continuerò a vomitare il mio disgusto per questa situazione e questo video durerà più o meno tre ore e mezza. Quindi procediamo. Anche se mi piacerebbe vomitare il mio disgusto per quattro ore e mezza lo ammetto. Queste sono quelle cose che mi fanno andare ai matti. Vi giuro. Mi fanno arrabbiare in una maniera impressionante. Questa mancanza di rispetto io proprio non la riesco a tollerare. Ma andiamo avanti. In questo periodo sul suo profilo Facebook Jessica pubblica un'infinità di appelli per cani abbandonati e smarriti. Poi il 28 dicembre del 2017 pubblica una foto su Facebook abbracciata da un pitbull con la scritta mio affiancata da un cuore. Si chiama Zen il suo pitbull ma per chi vive in simbiosi con un cane come molte persone senza fissa dimora diventa difficile trovare un ricovero per la notte. Certo ci sono alcuni posti al centro di via Graff a quarto giaro ma è davvero raro trovarne uno libero. Ed è probabilmente per questo motivo che Jessica risponde ad un annuncio di Alessandro Garlaschi un 39enne autista dell'ATM che dice di offrire vitto e alloggio in cambio di qualche lavoro domestico in via Brioschi a Milano. L'alloggio dobbiamo sottolinearlo in realtà consiste in un piccolo divano situato in cucina dove Jessica può coricarsi quando Alessandro Garlaschi spegne la televisione e se ne va letto. E peraltro vi dico un'altra cosa che però non mi è troppo chiara perché in alcune fonti è riportata in altre no sembra che Jessica per stare lì pagasse una piccola somma di denaro quindi vetto e alloggio non proprio. L'uomo Alessandro Garlaschi non vive da solo bensì vive con sua moglie ma Jessica dice che è sua sorella non mi è assolutamente chiaro come la moglie si spiegasse la presenza di Jessica in casa c'è da dire che in passato Alessandro Garlaschi aveva anche lasciato la moglie perché si era innamorato di una collega che però l'aveva denunciato per stalking quindi l'uomo era stato trasferito. Stando agli atti giudiziari Alessandro Garlaschi aveva una vera e propria ossessione per le ragazze giovani poco più che mangiorenni infatti ne aveva tirate altre prima di Jessica pensate che si vantava e mostrava ai colleghi delle foto di una di quelle ragazze che faceva le faccende domestiche in topless di nuovo mi chiedo ma sua moglie andava bene così? cerchiamo a questo punto di delineare la figura della moglie di Alessandro Garlaschi Veronica la donna anche lei cresce in un istituto gestito da suore a 18 anni va a vivere con sua madre che però non è molto presente non la calcola più di tanto così Veronica come giusto che sia va per la sua strada e conosce Alessandro i due inizialmente si frequentano come amici in seguito è lui che dice a Veronica di aver bisogno di essere sposato perché altrimenti l'azienda ossia la TM non gli fornisce la casa è per questo motivo che i due si sposano Veronica a questo punto dipende da Alessandro in lui trova del sostegno trova una persona che la appoggia ma per Veronica Alessandro non è proprio un vero marito tanto che la mamma di Veronica viene a scoprire di questo matrimonio a distanza di otto mesi c'è da dire che Alessandro tratta bene Veronica quest'ultima è una donna remissiva che cede facilmente quindi si dice che Alessandro non abbia mai dovuto farle vedere il suo lato peggiore i condomini di via Brios che riferiscono che Alessandro Garlaschi conducente del tram della linea 15 ha avuto negli ultimi tempi diversi incidenti di piccola entità il punto è che quelli non sono stati dei veri incidenti la verità è che Alessandro si sente onnipotente e col suo tram va contro diverse macchine perché non sono parcheggiate bene i responsabili hanno cercato di sollevarlo dall'incarico ce l'hanno fatta per un periodo e poi l'hanno reintegrato arriviamo al primo febbraio 2018 quando Jessica chiama i carabinieri dicendo che Alessandro Garlaschi ha provato a fare delle cose con lei mentre dormiva l'ha carezzata insomma l'ha ammazzata nel sonno gli agenti una volta arrivati la trovano in strada sotto casa Jessica dice all'autorità che Alessandro Garlaschi ha un rapporto ambiguo e strano con sua sorella che infatti si rivelerà essere sua moglie aggiunge che deve tornare in casa per prendere gli zaini con all'interno le sue cose e il suo cane perché non vuole più stare lì i carabinieri salgono in casa senza notare nessuna situazione allarmante e Jessica si rifiuta di denunciare Alessandro Garlaschi intanto però Jessica ha la febbre quindi quella stessa notte viene portata al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo dove però le dicono che non può rimanere lì se con sé ha un cane da questo momento in poi non è chiaro cosa sia successo di una cosa siamo certi Jessica è tornata a casa di Alessandro Garlaschi probabilmente perché a questo punto non ha davvero un posto dove stare deve però liberarsi del suo cane zen quindi lo affida ad una famiglia che possa prendersi cura di lui arriviamo al pomeriggio del 6 febbraio Jessica passeggia per Milano in compagnia di Alessandro Garlaschi entrano in un negozio di ottica vicino al castello sforzesco verso le 18 e 32 lui le regala delle lenti a contatto come in altre occasioni in cui sfruttando la convenzione di quel negozio con la TM per cui lavora aveva regalato ad altre ragazzine montature e occhiali la stessa sera l'uomo accompagna sua moglie Veronica da sua madre a Novegro un quartiere del comune di Segrate è lì che la donna passa la notte Alessandro Garlaschi quindi torna a casa e a questo punto in casa sono presenti solo lui e Jessica che è ritornata da poco Alessandro Garlaschi peraltro prima di portare la moglie dalla suocera scrive un biglietto che lascia in cucina in bella vista proprio per Jessica ed ora questo biglietto ve lo leggo immediatamente ciao bimba sai che ti vi bi ossia sai che ti voglio bene e ci tengo un casino a te stasera spero che starei facendo qualcosina oltre al dvd ma devi fare tutto tu e dirmi quando iniziare mi raccomando con il tipo stasera ebbene sì da questo biglietto le intenzioni di Alessandro Garlaschi magicamente si fanno chiare cristalline oserei dire ha già raccontato ai suoi colleghi che quella sera vuole provarci con Jessica ecco perché ha portato la moglie dalla madre devo avere casa libera Jessica però non ci sta anzi cerca di stargli lontano per tutta la sera fino a quando non scrive ad Alessandro un ultimo messaggio su whatsapp verso le 3 del mattino che dice basta lasciami la stanza voglio andare a dormire l'uomo è seduto sul divano della cucina e sta guardando un dvd e su quel divanetto di solito ci dorme Jessica Alessandro però si rifiuta di lasciare il divano a Jessica anzi la invita ad unirsi a lui e che fa Alessandro Garlaschi la tocca ci prova ma Jessica di nuovo dice no Jessica non ci sta e allora Alessandro Garlaschi afferra un coltello e la colpisce con 85 coltellate ormai sono circa le 4 del mattino due ore dopo quindi verso le 6 del mattino Alessandro Garlaschi chiama l'azienda dei trasporti pubblici per avvertire che sta male e che non potrà recarsi a lavoro quella telefonata gli è necessaria per prendere tempo per provare a mettersi al riparo qualche ora almeno con l'azienda perché ora deve cercare di far sparire il corpo di Jessica Faoro di 19 anni Alessandro dalle 4 alle 6 in effetti prova a sbarazzarsi del corpo di Jessica prova a dar fuoco al corpo di Jessica con dell'alcol poi lo mette in un borsone e infine inizia a fare scempio del cadavere prova a farlo a pezzi partendo dai polsi Alessandro prova a sbarazzarsi del cadavere poi però si rende conto che non sa dove andare non sa come muoversi non sa come trasportarlo insomma non sa cosa fare così alle 11 della stessa mattina Alessandro Garlaschi chiama il 112 dicendo esattamente queste parole in casa mia c'è una ragazza ferita all'arrivo dei soccorsi scende in cortile con ancora i vestiti ricoperti di sangue dicendo o una ragazza morta in casa Alessandro Garlaschi però dà una versione diversa da quella reale e qui le fonti si dividono secondo alcune Alessandro dice alla polizia che si è verificata una collutazione mentre Jessica gli stava per fare un'iniezione per il diabete secondo altre fonti i due avrebbero avuto una discussione sul film da guardare lei aveva afferrato un coltello lui aveva rigirato l'arma che lei aveva in mano e l'aveva colpita allo stomaco gli inquirenti arrivano nella casa di via Brioschi al civico 93 salgano e trovano il cadavere di Jessica Faoro chiamano dunque un medico legale per fare dei rilievi sulla scena del crimine ci sono diverse tracce di sangue secondo quanto emerge l'uomo a seguito del delitto avrebbe tentato di disfarsi del cadavere dandogli fuoco anche il portinaio dello stabile viene interrogato dagli inquirenti che cercano il coltello con cui sarebbe stata uccisa la ragazza la scientifica esamina tutti gli ambienti della casa e anche del palazzo incluso il locale dell'immondizia l'esame autoptico rileva sul corpo della vittima un gran numero di coltellate l'omicida ha tentato di bruciare il cadavere carbonizzandolo in parte non via presenza di aggressione intima che inizialmente era stata ipotizzata dagli investigatori il giudice delle indagini preliminari conferma l'accusa di omicidio e dispone la custodia cautelare in carcere a carico dell'uomo precisando che da parte dell'indiziato c'era indubbiamente un interesse intimo nei confronti della vittima sul luogo del delitto viene trovato un biglietto dedicato alla giovane il biglietto in cui Alessandro esprime la sua speranza perché la ragazza gli faccia qualcosina quella sera oltre al dvd nel settembre del 2018 le indagini volgono al termine la procura di Milano contesta ad Alessandro Garlaschi di aver parzialmente carbonizzato il corpo di Jessica Faoro dopo averla uccisa con 85 coltellate secondo la pubblica accusa il delitto sarebbe scaturito da un iniziale di verbio avvenuto in seguito al rifiuto della ragazza di fronte alle ennesime avance dell'uomo la 19enne profondamente infastidita da quel comportamento avrebbe minacciato e colpito Alessandro Garlaschi con un coltello ferendolo alle mani a questo punto si sarebbe scatenata la fatale aggressione degenerata nell'uccisione di Jessica una volta arrestato Alessandro Garlaschi scrive una lettera tramite il suo avvocato che manda a quarto grado la lettera dice con Jessica ho passato dei giorni davvero stupendi ho cercato di aiutarla a cambiare vita e ci ero quasi riuscito il tranviere inoltre esprime la sua rabbia per non poter partecipare ai funerali di Jessica al contrario dell'ex fidanzato di Jessica ossia Alessandro Alessandro Garlaschi commenta dicendo non l'ho trovato corretto lui è un santo provate a vedere la quantità di reati che ha alle spalle infine Alessandro Garlaschi si sofferma sul momento dell'omicidio scrivendo queste parole vorrei capire anche io cosa si è successo quel giorno perché non ricordo ho in mente però molto bene la frase finale cioè gli ultimi secondi Jessica moriva davanti a me fissandomi negli occhi e proferendo scusami Alessandro per poi aggiungere poco dopo non respiro dopo tre secondi è morta non ho potuto più fare nulla chiedo la perizia psichiatrica per capire il motivo di questo mio gesto assolutamente non voluto in quanto volevo molto bene a Jessica in effetti nel corso dei vari interrogatori Alessandro Garlaschi sostiene di non ricordare cosa fosse successo durante gli istanti più coincitati della collutazione dichiarando di essere sicuro di aver sferrato tre leggere coltellate la procura chiede l'ergastolo con l'accusa di omicidio volontario aggravato e villipendio di cadavere all'uomo viene anche contestato il reato di sostituzione di persona per aver presentato la vittima sua moglie come se fosse sua sorella in ogni caso la moglie Veronica rimane estranea all'indagine intanto la famiglia della vittima decide di lanciare un messaggio sempre tramite la trasmissione quarto grado noi genitori di Jessica Faoro insieme e uniti in questa vicenda anche con Andrea informiamo che il rito funerario sarà celebrato il giorno 24 febbraio 2018 alle ore 11 presso la parrocchia San Protaso Site in Milano piazza Brescia da Don Paolo Zago nell'occasione desideriamo ringraziare tutti coloro che hanno manifestato con fatti e parole il proprio affetto per Jessica precisando che le donazioni sino ad oggi raccolte già ricevute ci hanno permesso di anticipare una parte dei costi connessi alla sepoltura considerato che ancora in questo istante ci sono persone che ci stanno comunicando che sono in corso ulteriori raccolte di contributi oltre a ringraziarli per il gradito e sicuramente sentito pensiero precisiamo che anche queste donazioni verranno destinate a Jessica come già vi ho premesso da questo messaggio il 24 febbraio vengono celebrati i funerali di Jessica Faoro il suo ultimo viaggio lo ha fatto in una bara bianca coperta di gerbere in mezzo alle lacrime di decine di parenti amici e conoscenti che hanno riempito la chiesa di San Protaso c'è da dire che questi sono stati i funerali tesi perché perché a questi funerali era presente anche l'ex fidanzato di Jessica Alessandro scortato in chiesa dalla polizia peritenziaria perché è in carcere a Busto Arsizio e la madre di Jessica Anna Maria appena l'aveva visto aveva iniziato a urlargli addosso dando sfogo tra l'altro alla convinzione di molti presenti ossia che Alessandro sia stato tra i responsabili della vita travagliata di sua figlia durante l'omelia il sacerdote ha manifestato dolore da parte dell'intera comunità ecclesiale il sacerdote dice tutti noi cerchiamo risposte che non troviamo rintracciamo nella memoria segni che non abbiamo trovato non facciamo sentire solo i genitori una violenza senza senso senza ragione figlia di una grave responsabilità personale di chi l'ha compiuta frutto anche della violenza della cultura del nostro tempo che ha negato valore a ogni valore che usa l'altro per ciò che gli serve e non ha rispetto per la vita umana che ha trasformato i desideri in bisogni le voglie in diritti il 14 dicembre 2018 al termine del processo di primo grado svolto in rito abbreviato la corte d'assise di Milano accoglie la richiesta della procura condannando l'imputato all'ergastolo con isolamento diurno questa è giustizia ripete l'avvocato Elena Capizzi per l'intera durata del processo legale di parte civile della madre della giovane ossia Anna Maria Natella l'avvocato Elena Capizzi dice lui le aveva già fatto avanzi in passato poche notti prima del delitto lei aveva chiamato i carabinieri ma non lo aveva denunciato quella notte la notte della tragedia lo respinse ancora e andò come tutti sanno dopo aver massacrato la ragazza Garlalski cercò di bruciarne il corpo poi cercò di nascondere le prove nei borsoni lo ha fatto con metodo era lucido eppure per ben due volte ha chiesto senza ottenerlo il riconoscimento dell'incapacità totale o parziale lo scorso anno c'è stata persino la richiesta di abbandonare il carcere per incompatibilità con il contesto carcerare con riferimento all'emergenza sanitaria anche quella respinta non abbiamo mollato su niente i giudici nemmeno nelle motivazioni di primo grado il GUP Alessia Cecchelli aveva parlato di lucida volontà criminale nel maggio del 2020 la sentenza viene confermata in corte d'appello e nel giugno del 2021 viene resa definitiva dalla corte di Cassazione vorrei chiudere questo video parlandovi di una persona che è stata presente in questo video ma non così tanto parliamo di Alessandro dell'ex di Jessica Faoro è la notte tra il 13 e il 14 dicembre 2020 e siamo a Rozzano nel milanese quando un giovane di 23 anni di nome Alessandro ha il culmine di una lite avvenuta davanti ai figli aggredisce e ferisce al volto la compagna più grande di lui di 3 anni sfigurandola la donna viene ricoverata in terapia intensiva mentre il 23enne è imputato per lesioni maltrattamenti e per il reato di sfregio indotto con il codice rosso in seguito ai casi come quello di Jessica Notaro per cui la Cassazione ha condannato in via definitiva l'ex fidanzato a oltre 15 anni di reclusione dalle indagini emerge che l'aggressore arrestato in flagranza nel comune dell'Interland dai carabinieri in passato aveva picchiato anche Jessica Faoro infatti con l'elve di 3 anni aveva avuto una relazione la condanna a 5 anni inflitta dal group Pepe tiene conto dello sconto di pena di un terzo previsto dal rito abbreviato e dal vizio parziale di mente che è stato riconosciuto a seguito di una perizia psichiatrica sull'imputato c'è da dire che il giovane era già stato arrestato anche a Bergamo sempre per maltrattamenti nei confronti della madre e dei suoi figli più piccoli invece a dare l'allarme quella notte di dicembre sono stati alcuni vicini di casa preoccupati per le urla che provenivano dall'appartamento della coppia i carabinieri intervenuti immediatamente hanno trovato la donna seduta sulle scale del palazzo in cui abita Rozzano con molto sangue sul volto che chiedeva aiuto per sé e per i suoi due bimbi spiegando di essere scappata da poco dall'appartamento il ragazzo si era barricato in casa ma dopo alcuni minuti di trattativa ha deciso di aprire la porta ai militari che si sono fatti consegnare il bambino che teneva in braccio e hanno messo in salvo anche il fratellino dopo aver portato al sicuro i piccoli i militari avevano arrestato Alessandro per portarlo a San Vittore ho scelto di chiudere questo video con questa notizia perché secondo me ci dà un'informazione in più ossia Alessandro purtroppo non è mai riuscito a migliorare la sua situazione picchiava prima Jessica e ha continuato a farlo anche con le donne successive tanto che poi è tornato di nuovamente in carcere questa è la dimostrazione che Jessica anche stando con Alessandro era in pericolo detto questo ragazzi ho finito di parlare in questo video spero vivamente che questo video possa essere stato di vostro gradimento fatemi sapere quello che volete qui sotto nei commenti fatemi sapere se conoscevate questo caso e che cosa ne pensate io nel frattempo vi mando un bacione noi ci vediamo prestissimo al prossimo video mi raccomando fate i bravi continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene ma soprattutto prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici basta che non fate nulla di criminale ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti